Vitale Barberis Canonico affonda le proprie radici in un passato molto lontano. Il primo documento che parla dell'attività laniera della famiglia è del 1663, è un documento che è custodito nell'archivio di Trivero. Essere ben vestiti per un gentiluomo contemporaneo significa essere sicuri di sé. È una forma di rispetto nei confronti di se stessi e nei confronti dell'interlocutore. Una mia amica francese mi diceva sempre Intendendo il fatto che quando un uomo ha un abito, quando un uomo è ben vestito, riesce a trasferire un messaggio molto forte di se stesso. E quindi in qualche modo l'abito può influenzare anche la persona che lo indossa. Dall'Australia sino a Pratrivero, Vitale Barberis Canonico controlla gli oltre 200 passaggi necessari a produrre un tessuto di qualità. Lo stesso tessuto che Seglio Club utilizza nella propria linea. Una volta giunto in Vitale Barberis Canonico, il nastro di lana si trasforma in filo. Una volta che abbiamo ottenuto il filo a telaio, l'ordito incontra la trama e nasce il tessuto. Una volta pronto il tessuto, il tessuto viene nobilitato nel reparto di nobilitazione e quindi abbiamo il tessuto diciamo pronto al lago. Biella per noi è non solo il posto dove siamo nati, cresciuti, un posto dove la natura ha un grande respiro, ma è anche il posto dove nasce la nostra cultura del saper fare. A noi piace interpretare la nostra azienda come un trampolino di lancio per questa cultura della qualità, cultura del bello, che attraverso di noi riesce ad aggiungere moltissime parti del mondo e tantissime persone. Biella è una comunità di persone che sanno fare qualcosa e noi aiutiamo la comunità a farle e a portarle a tutto il mondo. Famiglia, qualità e territorio, tre valori che l'Italia Barberis Canonico da 352 anni promuove in più di 90 paesi al mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.